Buon San Valentino! Noi oggi abbiamo festeggiato così. Ho preparato questi gnocchi di patate viola vitellotte ripieni di taleggio. Andiamo a farli insieme? Allora, prendete le patate, le bollite, le sbucciate e le schiacciate. Aggiungete la farina, il parmigiano, la noce moscata e il sale. Stendete l'impasto con un mattarello e con un coppapasta a forma di cuore date la forma appunto di cuoricino e all'interno mettete un cubetto di taleggio. Ecco qui. Poi mettete un altro cuoricino sopra e chiudete come avete appena visto. Questo è il risultato da cotti. Vedete all'interno il cuore rimane morbido morbido. E sopra poi ci ho messo una spruzzatina di crema quella e anche alla base. Poi ho preparato questa torta con... ho fatto un biscuit. L'ho coppato in forma di cuore grande, una più piccola. L'ho bagnata con lo sciroppo delle pesche, sciroppate che ho fatto io. Ho messo delle pesche, della panna e ho fatto l'altro cuoricino alla stessa maniera. E questo è il risultato.